Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di guanti invernali, ne ho qua 4 modelli di level, un po' per tutti gli usi ma anche e soprattutto per tutti i budget e adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo dal modello più economico e anche più semplice dei 4, ovvero i Level Trail Polartec Eye Touch Già il nome ci dice un po' le tecnologie che utilizza, ovvero troviamo un'imbottitura in Polartec Power Stretch Abbastanza caldo, Level dice che vanno bene fino a meno 5 e confermo fino a qualche grado sotto 0 che si riesce a utilizzare benissimo E soprattutto questa tecnologia Power Stretch di Polartec ci garantisce un'ottima protezione dal vento ma anche un'ottima mobilità Infatti quando indossiamo il guanto questo calza veramente come una seconda pelle e non abbiamo nessun problema a impugnare eventuali bastoncini, telefono e via dicendo Dico anche telefono perché avendo anche la tecnologia Eye Touch questa serve apposta per andare a utilizzare il touchscreen del telefono anche indossando i guanti Per quanto riguarda poi anche la parte di vento e un po' pioggia abbiamo all'interno del guanto uno strato da andare a utilizzare da mettere sopra il guanto per proteggerci ulteriormente da vento e agenti esterni così da non avere problemi anche in caso di vento forte o un po' di pioggia Davvero un guanto perfetto per farci un po' di tutto perché possiamo utilizzarlo dalla vita di tutti i giorni senza nessun problema per andare in giro anche in città alle escursioni in ambiente invernale Naturalmente come dicevo meno 5 sicuramente non potremo farci delle escursioni troppo complicate ma qualche piccola giaspolata, qualche escursione eccetera vanno più che bene E poi naturalmente a fine recensione ne vediamo anche il prezzo Passiamo al secondo modello ovvero i level scalper light Esistono nella versione light che ho provato io che vengono dati come temperatura fino a meno 5 e nella versione diciamo più normale non light che viene data fino a meno 10 Una caratteristica molto interessante di questi guanti come sui precedenti che abbiamo la possibilità di estrarre il guscio esterno e andare a mettere sopra il guanto per proteggerci da vento e acqua Veramente una tecnologia tanto semplice quanto efficace poi questo secondo strato pesa pochissimo però vi assicuro dà un'ottima performance quando il tempo si guasta La parte interna è caratterizzata da una pelle sulla parte delle dita e che questa ci garantisce anche poter utilizzare il touchscreen del telefono e poi da una parte un pochino più morbida sul palmo della mano che gli dà un ottimo grip Davvero io questo ho avuto modo di utilizzarli sia con dei bastoncini senza nessun problema ma anche utilizzando delle piccozze e vi assicuro che davvero non scivola la piccozza Un'altra caratteristica che mi ha fatti amare è che praticamente sulla parte del polsino il guanto è intagliato in modo tale da poter vedere l'orologio Vi assicuro se fate alpinismo, trail running eccetera questa caratteristica l'apprezzerete davvero tanto 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 e in più in dotazione è dato anche un laccetto per andare a mettersi il guanto attaccato al polso così da non perderlo anche nel momento in cui dovessimo andare a camminare senza il guanto perché abbiamo un pochino più caldo Come vi dicevo questo modello light arriva fino a meno 5 e la sua termicità è garantita da della lana mirino messa all'interno è abbastanza calda, poi dipende naturalmente quale prendete come vi dicevo esiste anche la versione più calda ma anche molto traspirante perché io ho avuto modo di utilizzarlo sia fino a meno 5 mi sono trovato veramente molto bene ma anche a 5-6 gradi e non ho avuto per nulla caldo quindi veramente un'ottima escursione termica e questa lana mirino anche al contatto con la pelle quando lo indossiamo è veramente molto molto piacevole la caratteristica davvero che più mi è piaciuta di questi scalper light è la sua polifunzionalità possiamo utilizzarli per fare una classica ciaspolata senza nessun problema trail running e vi assicuro che le opzioni di poter tirar fuori l'orologio e poterlo guardare è veramente super utile possiamo utilizzarli per fare anche del semplice alpinismo nel momento in cui non fa troppo freddo veramente un guanto che con lo comprate spendete la cifra che poi vediamo alla fine della recensione e ci potete fare un sacco di escursioni ma se lo ski halper light non vi basta come termicità e siete persone che fanno dell'alpinismo veramente molto spinto allora abbiamo la moffola Yeti Meat pensate che questa moffola è garantita fino a meno 22 è veramente molto calda, molto molto calda ha un'imbottitura tutta in piuma con un feel power di 600 è molto comprimibile quando la mettiamo all'interno dello zaino avendo un così alto feel power comunque tende a comprimersi e vi assicuro il calore è una delle caratteristiche che più mi ha sorpreso la boot possiamo utilizzare senza nessun problema fino a temperature molto basse e inoltre la parte che anche mi è piaciuta tanto è la sua membrana membrana Thermo Plus è una membrana particolare perché viene laminata sulla parte esterna del guanto per evitare che vada a inzupparsi quindi evitiamo tutto quello che è il problema che abbiamo già visto con altri tipi di membrane è veramente fenomenale nella parte interna è fatta con una pelle di capra in modo tale da avere un ottimo ottimo grip quando andiamo a utilizzare piccozze, bastoncini e via dicendo la cosa bella poi è che comunque abbiamo un polsino abbastanza grosso che comunque va a proteggerci molto molto bene anche la parte del polso questa parte possiamo anche andare a chiuderla in modo tale da stringerla attorno al nostro polso per evitare che entri aria fredda e sempre sulla parte del polso troviamo anche il cordino da andare a indossare in modo tale da non perdere la moffola nel caso dovessimo ottenerla a ballonzoloni quando camminiamo ma se meno 22 di queste moffole non vi dovessero bastare perché dovete andare a delle temperature ancora più basse potete metterci in abbinata a un sovraguanto anche lui è certificato fino a meno 22 quindi messi insieme sicuramente andremo anche sotto in meno 30 anche il sovraguanto ha la tecnologia, la membrana Thermo Plus quindi allo stesso modo tiene fuori tutta quella che è l'acqua vedete che il guanto si possa inzuppare sulla parte interna ha lo stesso materiale che ha la moffola quindi veramente un ottimo grip anche da questo punto di vista l'unica cosa che proprio se vogliamo cercare il perone all'uovo è che non è proprio così semplice andare a indossarla al momento in cui abbiamo sulle moffole ci vuole un pochino di dimestichezza ma giusto un paio di volte che la si utilizza e poi il problema passa all'inizio bisogna un pochino prenderci la mano però davvero se dovete andare a fare delle attività a delle temperature super estreme la combinazione di moffola e sovraguanto vi garantirà innanzitutto due membrane quindi sicuramente acqua non ne entrerà ma poi la possibilità di andare a delle temperature anche molto inferiori ai meno 30 ma arriviamo dunque ai prezzi di questi guanti iniziamo dal trail Polartec il più semplice lo si trova online a un prezzo sui 40 euro 35-40 euro prezzo veramente molto basso secondo me sono degli ottimi guanti vista anche la possibilità di tirar fuori la parte esterna per proteggersi da vento e acqua come guanto tutto fare anche per la città va veramente molto molto bene i level scale per light invece li si trovano online tra i 75 e gli 85 euro diciamo sugli 80 quelli più termici invece la versione non light sta sui 95-100 euro questo è il guanto che più vi consiglio per farci un po' di tutto anche la versione magari non light se volete andare un pochino a temperature più basse è veramente un guanto perfetto per farci trail running sci alpinismo, escursionismo, un po' di alpinismo davvero volete farci un po' di tutto e se pensate che con un guanto spendendo 80-90 euro potete farci di tutto secondo me è veramente un'ottima spesa le moffole IETI invece le si trova sui 100-110 euro hanno sicuramente delle tecnologie molto interessanti tra cui la membrana sono veramente molto calde secondo me questi 100-110 euro veramente valgono tutto il prezzo per acquistare questo tipo di moffole le utilizzerete anche per farci magari dello sci senza nessun problema e vi assicuro sono veramente molto molto calde l'aggiunta degli overglove dei sopraganti vi costerà sui 50 euro con questi sopraganti stiamo su quella cifra messi insieme sì è vero raggiungiamo magari 160 euro ma raggiungiamo anche delle temperature estremamente basse detto ciò quindi ragazzi come vedete abbiamo guanti un po' per tutti in base a quello che dovete fare e in base anche ai soldi che volete spendere io nella speranza sia stato esauriente ed esaustivo anche per questa recensura vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao